È una vigilia movimentata, quella dell'Aquila Calcio, che domani si giocherà la prima fetta di Lega Pro nell'atto uno dei play-out con i rimini dell'ex Leonardo Acori. Nel penultimo allenamento di giovedì mattina un gruppo di tifosi si è presentato alla seduta di lavoro per incitare i giocatori, ma anche per tornare a polemizzare nei confronti di San Domenico, a causa dell'ormai famoso screzio dopo l'Aquila Siena del mese scorso, che è costato alla fine otto d'aspo ai supporters aquilani. I tifosi hanno chiesto a chiare lettere alla società che l'attaccante campano sia definitivamente allontanato dalla squadra. San Domenico, che sabato non sarebbe stato comunque a disposizione a causa della seconda giornata di squalifica da dover scontare, ha lasciato l'allenamento ed è ripartito ieri per Napoli. Attenderà da lì oggi pomeriggio la sentenza sul ricorso contro le tre giornate di stop, ma a questo punto, considerando la rottura totale con la tifoseria aquilana, è difficile pensare ad un suo impiego per la partita di Rimini di sabato 28 maggio, anche nel caso in cui dovesse essere ridotta la squalifica. I tifosi sono tornati al campo anche questa mattina, con il solo scopo però di incitare la truppa di Perrone nella classica seduta di rifinitura. Un gesto di vicinanza e compattezza quanto mai salutare dopo le vicissitudini dell'ultimo periodo. Intanto, sul fronte formazione, il tecnico Carlo Perrone sta sciogliendo gli ultimi dubbi sull'undici titolare. Al netto delle assenze di Bulevardi, Ceccarelli, Peso, Lissagni e San Domenico, l'allenatore aquilano sembra orientato a schierare Maccarrone nel trio di difesa con Cosentini e Piva. Quasi fatto il centrocampo a cinque con Triarico e Ligorio sugli esterni e con De Francesco e Manuel Mancini e Mezzali. Qualche dubbio invece per il ruolo di playmaker. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Benzaia, che potrebbe soppiantare dal primo minuto Milicevic. In attacco, se fino a ieri sembrava favorito il giovane Andrea Mancini al fianco di De Sosa, al momento è tornato in pole position Raffaele Perna. Buone notizie intanto arrivano anche dai numeri della prevendita. Gli appelli fatti in settimana da gruppi di tifosi e dalla società tramite cartelloni affissi in varie parti della città hanno funzionato. Al momento sono oltre 700 italiani staccati e considerando l'abitudine degli aquilani ad acquistare il biglietto direttamente ai botteghini il giorno della partita, alla fine sugli spalti si potrebbero superare le 2000 presenze.